Zerto è una società americana, uno sviluppo israele, parliamo di una soluzione software che fa sistemi di disaster recovery, è una replica in tempo reale che permette di ricreare delle virtual machine copia anche sulle lunghe distanze e che sono pronte a ripartire. Tutto quello che è un discorso di failover, failback, testing, sono già integrate all'interno del tool e il tool semplifica tutte quelle che possono essere soluzioni per creare dei piani efficienti indipendentemente dal tipo di storage che viene utilizzato. Molto semplicemente semplifichiamo delle soluzioni che altrimenti sarebbero complicate.